I below on youtube with his lot with his lot now there is I below Volete sapere la cosa bella? Ho registrato un video e oggi ho fatto anche un'ora di live Visto che in live non mi guarda un cazzo di nessuno ormai tanto va bene Seguitemi su twitch che cazzo sei quasi 700 iscritti su youtube su twitch Ah così 50 vabbè tanto alle 3 di pomeriggio non avete un cazzo da fare sicuro E vabbè non ce l'ho con voi per carità ce l'ho con me perché non è che il computer mi avvisa Guarda non ti sta funzionando il microfono vabbè vabbè ho registrato il video Sul che devo riregistrare ovviamente perché vabbè la vita mi vuole bene Ti possino vabbè Ho appena registrato il video la cioccolata rum uvette nocciole non si sente un cazzo E quindi riregistriamo tutto da capo Facciamo come se fosse la prima volta bella a tutti ragazzi benvenuti in questo meraviglioso video Sono calmissimo assolutamente Scherzo a parte oggi assaggeremo la cioccolata rum uvetta e nocciole In sostanza cioccolata rum Beh potrò dire di essermi ubriacato con la cioccolata Seguitemi su twitch mi prego Mi cade regola di 5 secondi Allora possiamo vedere qua dentro Ah le nocciole con i pezzi più scuri e l'uvetta E il rum c'è uno scaffato dentro Si sente tantissimo il rum ed è la prima volta che lo sento No vabbè Il rum si sente tanto ed è buono Vabbè lo posso dire perché l'ho già mangiato Sto pensando al fatto di prima che ho fatto un'ora di live con il microfono spento Rido per non spaccare qualcosa Che sia chiaro Stavo dicendo il rum per essere una cioccolata secondo me è un po' troppo forte Secondo me il rum per essere in una cioccolata è un po' troppo forte Perché Allora è tutto forte Non è che è tutto forte Però dic' sì Però cioè È una cioccolata Io principalmente la cioccolata devo sentire Poi ci deve essere leggermente il retrogusto di rum, menta o quello che esso sia Cioè ci deve essere il retrogusto, deve essere leggero Poi l'uvetta c'è ma non si sente per niente Cioè si sente la consistenza quando la prendi Però non si sente un grasso Questa qua è una cioccolata che mi ha regalato una mia amica Io la ringrazio per carità di Dio Però la prenderei una seconda volta Senti Io no perché sinceramente non è che Sono uno che beve chissà quanto Cioè bevo perché so Perché so Durante le feste sai Quando finisci di mangiare un po' un bicchierino di limoncello Niente di che Bevo pochissimo E quindi Ritter Sport Sappi che io ci sono Se mi vuoi contattare Vabbè tanto Ti ho già taggato su Instagram Nel video che ho fatto sulla cioccolata Al marzapane Cos'è che era Vabbè Ti ho già taggato Quindi Sai che ci sono Io metto a questo video E ti ritagherò Perché ha 4 pagine Uno in Australia Uno in Germania Uno in America Uno in Angertina E una in Italia Vabbè poi quella Cioè vabbè Ha 8 miliardi di pagine Io ho messo per l'hashtag Hashtag Vi deve piacere il rum E vi deve piacere l'uvetta Non per niente Perché il rum A non tutti piace L'uvetta La consistenza A non tutti piace A me piace Io vabbè Mi mangeri pure le sedie Non è che mi faccio problemi Dipende se fanno Una sedia abbastanza Comestibile Però io me la mangio Cioccolato Allerta Extra Con Vero rum Giamma Giamaicano Poi dalla Giamaica Lo sono andati a prendere Se io voglio rum Vado 2 euro Da cinese Signori Se questo video Vi è garbato Se vi è piaciuto Spaccate il tasto Mi piace Di tanti mi piace Iscrivetevi Attivate la campanella Perché più che altro Arrivano le notifiche Seguitemi su Instagram Vi prego Perché io faccio le live In pratica da solo E In pratica Mi dice uno spettatore Quando lo spettatore sono io Giustamente Mi devo autoaprire la live Perché dove dà la chat Ci vediamo Settimana prossima Lunedì prossimo Settimana prossima